Sono molto contento, ho attraversato tre mesi molto difficili, sono contento sia per la prestazione personale ma soprattutto per la vittoria, stavamo oltrepassando un periodo molto difficile, erano sei partite che non riuscivamo a vincere e avevamo bisogno di una vittoria del genere, ora dobbiamo pensare partita dopo partita e pensiamo già mercoledì.